Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. I caucus dell'Aioa danno il via ufficiale alla corsa alla Casa Bianca. Donald Trump è il grande favorito. L'ultimo sondaggio indica per l'ex presidente il 48% delle preferenze. La vera battaglia è quella per il secondo posto ed è fra Nicky Ale e Ron DeSantis. Sono Serena Di Ronza a Des Moines per seguire per l'Ansa i caucus dell'Aioa che danno il via ufficiale alla corsa alla Casa Bianca. In ascesa la settimana l'ex ambasciatrice all'ONU ha il 20% dei consensi mentre il governatore della Florida è scivolato al terzo posto con solo il 16%. Oggi faremo la storia, ha detto Ale incontrando i suoi sostenitori al Drake Diner di Des Moines alle 8 del mattino. Il pub nonostante l'ora e le temperature gelide è pieno come se fosse l'ora di cena. Proprio il grande freddo è destinato ad avere un impatto sui caucus. Quando si apriranno le operazioni di voto alle 19 ora locale la temperatura percepita sarà di oltre meno 30 gradi. Le strade, così come i marciapiedi, sono lastre di ghiaccio che rendono difficili gli spostamenti. Il Partito Repubblicano e le varie campagne elettorali hanno organizzato pullman per consentire l'arrivo ai caucus che si svolgono in chiesa o all'interno di scuole, solitamente nelle palestre. Le attese per espletare le procedure di registrazione saranno svolte al caldo, evitando così le tradizionali lunghe file all'esterno che, con meno di 30 gradi, sarebbero troppo pericolose. Un candidato repubblicano alla Casa Bianca intanto sono impegnati negli ultimi appelli al voto. Fra lo staff di Trump c'è ottimismo, visto il vantaggio di 28 punti su Ale. Il timore, però, è quello di una bassa affluenza, che penalizzerebbe l'ex presidente e beneficerebbe invece i suoi rivali. Per Ale e De Santis, l'Iowa è il primo vero test, forse quello decisivo, per conquistare il titolo di anti-Trump. Un solido secondo posto dell'ex ambasciatrice potrebbe cambiare la corsa alla Casa Bianca, consentendole di arrivare alle primarie del New Hampshire con il vento in pop e presentarsi come la vera alternativa a Trump. La strada verso il 2024, per Ale, comunque non è facile. I consensi fra i potenziali elettori non laureati sono solo al 3%, mentre Trump in questa fascia domina in contrastato a De Santis. È quello che rischia di più in Iowa e che, secondo molti osservatori, potrebbe essere costretta a lasciare di fronte a un risultato di caucus deludente, un'ipotesi che la sua campagna non vuole neanche considerare al momento, anche alla luce dei precedenti storici. Nel 2016 Trump era indicato come il grande favorito in Iowa e alla fine, a sorpresa, vinse Ted Cruz. Nel 2012 Mitt Romney venne dichiarato inizialmente vincitore e poi, 16 giorni dopo, la vittoria gli fu strappata. Il conteggio rivelò infatti che a vincere in verità era stato Rick Santorum.